Cari amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro San Ten Chan. Beh, stavo guardando dallo speciale TG1 che in Grecia ha vinto il no. Chissà quali scenari si dipanneranno adesso. Qua sono le 19.36, fa freddo e buio e niente, adesso vado a cenare. Comunque è da mesi che volevo fare un programma radio ed è almeno da una settimana che sono riuscito a reinstallare speaker nel mio cellulare. Perché il microfono da scrittorio che ho per il mio computer da scrittorio, per il mio PC, non funziona molto bene. Comunque vi ringrazio di seguirmi in specche e in questi giorni farò altri programmi radio. Questo era per farmi sentire e per condividere con tutti e tutti voi il fatto che, che niente, ho fatto dei video in YouTube spiegando che cosa sarebbe potuto succedere se vinceva il no. fuori dall'euro, dall'eurozona e dentro il rublo, chissà. Comunque mi raccomando, guardate i miei video in YouTube e a risentirci. Io fra poco farò un vero programma radio, adesso c'ho molto da fare e quindi vado a cenare, chissà che cosa starete facendo voi in questo momento che mi ascoltate, ma vabbè. C'ho ancora 18 minuti di, anzi no, 27 minuti di programmazione, però per il momento taglio qua, perché non ho tempo di fare un programma radio. Comunque grazie di rimanere iscritti al mio canale e di seguirmi. Io tratterò di seguirvi, beh, arrivederci. Allora, ricapitolando, al vinto il no in Grecia, in questi giorni stiamo a vedere quello che succederà. Speriamo bene per la nostra amata Europa e per il nostro ben amato paese Italia. Ciao!